Sì, certo. è così non è caldissimo anche se oggi farebbero duro buono altina se farà un po caldo dici tu si vabbè non da tutare che sa dire però meglio freschi effettivamente quando poi inizi a bloccarti da qualche parte la temperatura sale le stelle non è piacibile come cosa e lui raccomando senza esagerare eh no no tutti uguali grazie a tutti 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 e a tutti e a tutti e a tutti e a tutti grazie a tutti e a tutti grazie a tutti e a tutti e a tutti grazie a tutti e a tutti a tutti e 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 a tutti grazie a tutti e 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 tutti e a tutti e a tutti e a tutti e a tutti e quindi e a tutti e tutti e tutti e a 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 tutti